Quest'anno per Euroluce vari progetti, tra cui una minimale applica per Artemide. Artemide cerca di utilizzare i led, queste sorgenti che hanno tante caratteristiche vantaggiose sia per il progettista che per l'utente finale. Quindi sfruttare al massimo questa tecnologia che Artemide sta sviluppando significava poter fare finalmente una applica in questo caso in cui la lampadina, che è una lampadina led, chiamiamola così, non avesse un ingombro importante e quindi finalmente poter studiare dei volumi piccolissimi e poter creare un oggetto nella filosofia del mio modo di progettare, cioè un oggetto estremamente pulito, che in questo caso essendo una luce privilegiasse appunto la luce. Un oggetto che è spento diventa quasi assente nell'ambiente e anche in cui viene acceso dà importanza alla luce, quasi un contorno della sua funzione.